Valeria Solerino apre all'Aquila finalmente la stagione teatrale del TSA in presenza dopo un periodo difficile per tutto il settore, per il cinema, per il teatro, per lo spettacolo. Un monologo emozionante, emotivo, dove Vincenzo diventa Innocenza Rosa. Un monologo che arriva in una settimana come questa, in cui si celebra la donna e soprattutto si dice basta alla violenza sulle donne. Anche le donne che si sentono dentro in questo modo e che devono fare un percorso importante. È uno spettacolo dove c'è anche tanta violenza. La violenza che Vincenzo subisce dalla famiglia, dalla società, dai vicini di casa. La violenza più fisica di chi lo aggredisce perché respinge questa sua consapevolezza, questa sua presa di consapevolezza della sua identità. Ma anche la violenza psicologica, le voci, il continuo giudizio degli altri, che è una cosa molto dura da sostenere e da sopportare. Vincenzo riesce a fare questo percorso innanzitutto dentro se stesso grazie all'aiuto della nonna che lo ama. Lo ama appunto, quindi non si aspetta niente da lui come dovrebbe essere l'amore. Lo accoglie, per cui lo lascia essere e lui lasciandosi essere scopre la sua vera identità. Qui si parla di identità di genere perché lui compie un percorso, quindi come dicevi da Vincenzo, diventa innocenza. Ma in realtà si parla proprio di identità in generale, cioè proprio la presa di consapevolezza di chi si è, al di là di tutte quelle sovrastrutture, di tutti quei codici, di tutto quello che le persone si aspettano da noi. E noi stessi ci aspettiamo da noi, perché l'educazione che abbiamo ricevuto innanzitutto, il corso sociale in cui viviamo, ci dà una griglia dentro la quale muoverci e quindi noi stessi ci aspettiamo delle cose e abbiamo paura di tradire le nostre stesse aspettative. Invece con questa estrema libertà che la nonna concede a Vincenzo, lui riesce a trovare il suo spazio e lo trova nell'essere innocenza. È un percorso importante e impegnativo che avevi già portato al cinema, mi viene in mente Viola di Mare, in cui c'è un'altra donna che deve fare un percorso al contrario questa volta, diventare uomo per amore. Sì, in realtà quello è un percorso forzato perché Angela, la protagonista di Viola di Mare, si sente donna, e però ama un'altra donna. Siamo nella Sicilia dell'Ottocento, in realtà non è cambiato moltissimo oggi e in tanti casi, in tante famiglie questa cosa è ancora presa come un disonore, come una vergogna, una perversione e quindi lei è costretta a farsi uomo per poter amare liberamente questa donna. Quindi è un po' diverso, però c'è sempre una violenza, una costruzione che arriva nel momento in cui le persone vedono qualcosa che è diverso da quello che si aspettavano. E questo è proprio il centro di tutto, cioè il fatto di relazionarsi con qualcosa che gli altri si aspettano da noi senza pensare che non è detto, non è scritto da nessuna parte questo. Quando scendi dal palcoscenico, quando si spengono le luci dei riflettori, invece tu che donna sei? Non l'ho ancora scoperto perché in realtà questo spettacolo mi ha fatto riflettere molto sul concetto di identità. Io prima avevo questo pensiero, l'associavo di più al carattere, alla personalità, cioè tutto l'insieme di esperienze che uno si porta dietro, come se prendo sempre questa immagine di uno zaino che tu ti metti sulle spalle e dentro metti tutto quello che stai vivendo, che hai vissuto, le relazioni, i rapporti, eccetera. Ma questa non è l'identità, non è quello che ci contraddistingue. L'identità è qualcosa di molto più delicato, molto più fragile anche, che forse ognuno di noi scopre ha la fortuna, chi ha la fortuna di capirlo veramente, magari alla fine della vita, quando togli tutto quello che anche tu stesso hai costruito e dici no, ma in realtà a me non mi piaceva veramente quella cosa lì, non ero veramente così. Magari in buona fede in quel momento l'hai detto, l'hai provato, però non è così, è così perché si fa così, perché gli altri si aspettano da te questo, perché sei cresciuto in una famiglia dove si faceva sempre così e chissà, magari un giorno invece pensi no, la mia vita è da un'altra parte. Invece cosa ti senti di consigliare alle donne, appunto come dicevamo, in un momento come questo e soprattutto al ridosso della giornata internazionale contro la violenza di genere? Eh sì, è un tema molto delicato, molto complesso e ogni caso è veramente un mondo. La cosa che mi sconvolge di più è notare come queste violenze avvengono proprio in ambito familiare e quindi sono spesso operate dal marito, dal compagno, dall'ex marito, dall'ex compagno e quindi evidentemente c'è una forma di possesso e quindi qualcosa che non ha niente a che vedere con l'amore che tende invece a mettere le mani su qualcosa che viene considerato un oggetto, un oggetto che è nostro, che ci appartiene, che appena non è esattamente ancora una volta come vogliamo, allora questo porta l'uomo nella maggior parte dei casi, nella quasi totalità dei casi, a operare una violenza. È un tema molto molto delicato che andrebbe affrontato non soltanto cercando di porre un rimedio all'atto o cercando di tutelare chi è già in pericolo, chi è già stata aggredita, quindi chi ha, dove c'è l'allarme, ma proprio alla base, cercando proprio di educare veramente alla convivenza tra persone dove non c'è mio, tuo, dove siamo veramente tutti liberi e nessuno di nessuno. È anche molto pericolosa l'espressione che si dice a volte per affetto tu sei mia, tu sei mio, in realtà può nascondere appunto il seme di qualcosa di molto più crudele, molto più complesso. Che probabilmente il Covid e la pandemia, il lockdown hanno semplicemente amplificato? Beh, i dati del 2020 sono molto più preoccupanti rispetto a quelli degli anni passati, quindi sicuramente una situazione di costrizione non permette, anzi esaspera, quella aggressività e quella follia e non permette di sfuggire a una cosa del genere, non ha permesso di sfuggire a una situazione del genere. Io ci pensavo continuamente durante quel periodo di isolamento, soprattutto durante il primo, a quelle situazioni veramente al limite. appunto la violenza, che è la situazione estrema, è più pericolosa, ma penso anche le situazioni di difficoltà, di incompatibilità che si riescono a sostenere quando uno riesce a ricavarsi i propri spazi, ma in una situazione di costrizione è chiaro che è esploso tutto e ha ingigantito i mostri. Bene, quindi dopo questo spettacolo importante dove la donna, in qualche modo questa figura è al centro e dopo il lockdown che vi ha visti a voi, personaggi dello spettacolo, vittime inconsapevoli della pandemia, ti aspettiamo al cinema. Vediamo l'ora di vederti anche al cinema, sei un'attrice brava, completa. C'è qualcosa che puoi anticiparci? C'è qualche progetto a breve? Di cui posso parlare? No, c'è una cosa che sto per iniziare il prossimo anno, però no, ne posso parlare ancora. E allora rimaniamo sintonizzati. Grazie. Grazie, grazie a voi.